Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1 in direzione Bologna l'area di servizio di Badia Alpino Est è sprovvista di benzina per un guasto all'impianto e sulla A15 l'area di servizio di San Benedetto in direzione Parma è sprovvista di GPL. Sulla FIPILI segnalato personale su strada per lavori tra Interporto Toscano Est e il Bivio per la A12 in direzione Firenze. Sull'accordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Prunita. La viabilità cittadina a Firenze proseguono i lavori in via Bolognese con modifiche alla viabilità e percorsi alternativi. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!